Dei 288 milioni di euro che spettano alle Marche per la difesa della costa, ben 41 in 10 anni saranno destinati a Fano e dal suo litorale, secondi per importo allocato solo a Porto Recanati. Una programmazione di investimenti della Regione Marche che arriva dopo 13 anni dal suo ultimo piano di investimenti, un atto importante della Regione illustrato questa mattina nella Sala della Concordia, la stampa agli operatori e comprese le associazioni di categoria. Un intervento che mira la salvaguardia della linea di costa regionale di ben 176 chilometri di cui 130 protetti da scogliere frangifluti che mira ad allontanare sempre più il mare dalla linea ferroviaria e che permetterà di restituire a Renile a quelle concessioni che in passato hanno visto metri e metri di spiaggia essere inghiottiti dal mare per i marosi e le mareggiate. Stiamo facendo questo grande lavoro di ascolto e di informazione per gli stakeholder e per tutti gli operatori perché tutti possono essere coscienti e fare le dovute osservazioni. Il piano prevede una serie di interventi anche economici in 10 anni molto importanti, risorse che noi dovremmo riuscire a recuperare dalla prossima pianificazione europea e quindi anche con la partecipazione laddove è possibile, non ovunque, ma laddove è possibile, laddove Rete Ferrovie Italiana è interessante con la partecipazione di Rete Ferrovie che parteciperà con il 50% della spesa. Quindi è un passo molto importante che interessa tutti gli operatori, non solo ma anche i cittadini. Per la costa fanese la novità rappresenta l'inclusione nel piano dei tratti di costa a sud e a nord della Gimarra fino a Fosso Seiore. In questo piano a lungo termine rientrano anche gli interventi già posti in essere e che stanno incominciando a dare i loro frutti, ma rimane ahimè l'annoso problema dell'ultimo segmento di costa davanti all'anfiteatro Rastat fino alla diga foranea della Marina dei Cesari, argomento di duro scontro anche nella passata stagione tra amministrazione e bagnini. Ma qui il pallino è nelle mani del nuovo esecutivo e del ministero. Manca ancora il milione che è stato stanziato dal governo Gentiloni nella finanziaria del 2018 che erano stati assegnati all'unità di funzione Italia Sicura che doveva preoccuparsi di fare il riparto. Questo riparto era stato fatto, alla regione Marche dovevano arrivare 29 milioni di cui un milione destinato alla difesa della costa fra il porto e Sassonio e la chiusura di Italia Sicura fatta dall'attuale governo con l'assignazione delle funzioni e delle risorse al ministero dell'ambiente ha allungato di molti tempi. Mi auguro che il ministero accelere i tempi perché in quella zona c'è bisogno assolutamente di fare interventi veloci. Grazie a tutti.